Ci schieriamo contro un governo che manda e finanzia le bombe, ci schieriamo contro una comunità internazionale che porta le spalle, ma ci schieriamo a fianco di quei tanti popoli che in questi mesi sono scesi in piazza e non posso sentire la loro determinazione. Non ci sono fatti fermare da un esercito azionista e non ci faremo fermare da quattro scemi con la bandiera italiana e da un esercito a loro difesa. Forza i popoli che lottano stiva, i popoli in rivolta. Forza i popoli che lottano stiva, i popoli in rivolta, i popoli in rivolta, i popoli in rivolta. Forza i popoli a warmate Chinese! Porco Israele!